cosa volevo dire ecco brava grimmie jo cosa volevo dire ma volevo dire questo nasce che li mostri grazie per aver sollevato questo tema no lascia che li mostri buoni con le domande che adesso per un po non le guardo perché guardo guarda il mio tweet no io l'altro giorno lì che mi aggiornavo sui dati e mi son detto guardiamo un po di dati assieme e allora ho mostrato questo ho fatto una no scusate sbagliato ho mostrato una anzi si scarico ho mostrato quattro grafici presi da our world in letta allora ho preso solo sei paesi perché ho preso sei paesi ho preso sei paesi perché altrimenti il grafico diventava confuso francamente se ne possono trovare tantissimi esempi ovviamente il mondo deve essere l'italia quindi per l'italia alla francia come tra l'italia alla francia perché parto da qua perché queste sono le politiche e volevo fare un'analisi nel tempo causale a partire da una situazione di relativa tranquillità quindi come vedete queste sono le politiche di stringersi adottate vediamo avendo un po più grande del programma coso adottate nella a partire dalla dal 15 luglio del 21 quindi praticamente questi sono gli ultimi se volete cinque mesi ok allora avete tre gruppi di paesi più o meno approssimativamente avete l'italia la francia due paesi grandi molto simili con governi simili atteggiamenti simili e che erano tranquilli diciamo in luglio poi si sono allarmati prima la francia metà agosto è andata molto su di stringersi da lì è rimasta costante alta e poi l'italia progressivamente è andata progressivamente stringendo fino a quando ha stretto ai livelli attuali a fine ottobre ok poi avete due paesi a basso livello di stringersi di chiusure che sono il giappone e la spagna la spagna più significativa perché la spagna è un paese ancor più simile a noi della francia per cultura per atteggiamenti per comportamenti per maniere delle relazioni sociali questo è importante perché sappiamo che le forme della relazione sociale sono rilevanti nella trasmissione perché da come si sta insieme a casa di come si sta insieme al cinema al bar al ristorante dipende molto dalla trasmissione per la trasmissione avviene di modo per respirazione per parlando respirando assieme per qualche minuto in ambienti chiusi sono ventilati in cui il aerosol viene in parte in bocca a tua e viceversa così ci si contagiano ci contagiano in altra maniera guardate questa ormai è di a ridere ne discutono anche prima che ho fatto da un paio di colei che erano qua per lavoro dal dipartimento della scuola di medicina questo pulire ossessivo di tutto con l'alcol fa ridere non ci si contagia così ok va beh ma c'è scritto dappertutto non lo dice bene quindi italia spagna giappone e spagna sono lì a fare i due paesi mediani e poi due paesi scandinavi con stringensi basse e che poi diventano ancora più basse da metà ottobre quindi tre tipi di politiche diverse e non si aspetterebbe se le politiche hanno effetto di vedere comportamenti diversi particolare se hanno l'effetto che si aspetterebbe di vedere qui tassi di infezione questo gruppo qua molto alti tipicamente maggiori qui diciamo mediani medi e qui più bassi almeno a partire da quando le politiche vengono introdotte e allora cos'è che mostro mostro anche questo mostro che per quanto riguarda i tassi di vaccinazione mentre all'inizio questo paese qua che è il giappone se non sbaglio era indietro vedete che sale molto più rapido degli altri e che a partire da metà settembre circa fine settembre siamo più o meno uguali quindi su due mesi e mezzo tre che questi paesi dal punto di vista la vaccinazione sono uguali uno dirà no beh ma la spagna è sopra l'italia e sopra la francia sì ragazzi c'è però differenze percentuali di due tre punti francamente possono spiegare differenze percentuali di due punti ma non possono spiegare tenete anche conto che tra l'altro purtroppo questo grande di queste analisi che diventa sempre più grave questo il tasso di contagio sempre più alto si continua a calcolare l'immunità sui vaccinati e non si mettono in conto le persone che magari non sono vaccinate ma hanno a un immunità acquisita dal contagio dal superamento del contagio poi ci sono anche quelli come me che hanno entrambe che si sono sia vaccinati che l'han preso io l'ho preso prima di vaccinarmi purtroppo però infatti io e tutti quelli che ho visto testarsi di nuovo questo non è la certezza non c'è nulla di certo in queste cose una dimensione frequentista e probabilistica a niente ho un tasso di anticorpi altissimo ok no la mia tesi non è che le politiche non siano un cazzo io adesso sto guardando finalmente lo scrivete non scrivete troppo che non sto facendo attenzione ai commenti Ruggero non esagerare la mia visione è che alcune politiche essenziali e molto piccole molto attente servono tutto il resto che viola la libertà che discrimina che fa caso non serve un cazzo fa solo terrore crea solo conflitto sociale io praticamente l'ho detto dal giorno 1 anche su mi ricordo il primo che me l'ha fatto osservare quando importante fosse è stato il professor stefano merigliano a dina che adesso si è andato finalmente in pensione dopo tanti anni lavoro dina direttore della scuola di medicina ministra di padua e grande chirurgo e professore di medicina in quale mi dice guarda michele è ovvio che in ambienti chiusi occorre tenere la mascherina in ambienti chiusi è bene starci poco lo diceva a marzo del 2020 un anno più di un anno e mezzo fa è bene starci poco non è bene stare in ambienti chiusi con tanta gente attorno per periodi ovviamente ci si sta alitando addosso ce lo si passa è bene erare eccetera eccetera a quel tempo si pensava che anche la pulizia servisse perché l'evidenza empirica non c'era poi è arrivata cioè bene anche lavarsi le mani ma quello lo facciamo comunque accentuiamo il numero di volte che ci laviamo le mani magari disinfettiamo ambienti dove passano molte persone questo molto stare all'aperto è molto utile e se sei una persona malata debole diabetica grassa eccetera eccetera e di una certa età si riferiva a lui e me ce lo siamo presi tutti e due lui prima di me quando ha finito lui ho cominciato io tant'è che mi ha curato al telefono mi ha seguito al telefono molto divertente misurava le mie fasi c'è no sei più o meno come quel giorno è il sesto sicuro andiamo bene però io dopo sono di ospedale lui no a lui è accaduto a casa più bravo di me anche se aveva due anni più ecco questa è una cosa quindi queste politiche io sono assolutamente dell'opinione che vada attuata e di conseguenza le restrizioni su discoteche e posti del genere io le trovate ragionevoli tutto il resto che non ho trovato già volete in particolare la chiusura delle scuole i lockdown totali le limitazioni agli orari del commercio mentre sarebbe dovuto aprirlo 24 ore a distribuire interi addensamenti eccetera eccetera e poi per non parlare della chiusura dei parchi la chiusura dei campi da sci e il coprifuoco mancava solo la ghigliottina ok quindi questo è il punto e secondo me questi dati lo provano comunque lasciatemi andare avanti vedete cosa mostra questo questo mostra che i livelli di vaccinazione perlomeno a partire da settembre sono molto simili ok molto sim mostra anche che la spagna è tremendamente sopra dell'italia ok da sempre nonostante non abbia il green pass non solo mostra anche se seguite potete andare a cercare la linea italiana vi rendete conto che l'effetto green pass nella tassi vaccinazione non c'è perché il green pass viene introdotto qui ok e vedete che la curva italiana continua a rallentare poi si accentua poi si alza un po ecco forse c'è un piccolo effetto invernale qua quando è stato reso obbligatorio sui luoghi di lavoro se c'è un effetto è qua ok ma niente altro che quello quindi quelli che teorizzano che il green pass è fatto che a causa del green pass che abbiamo un tasso di vaccinazione alto si sbagliano e la spagna non è l'unico paese con tasso di vaccinazione maggiore del nostro ce ne sono altri ok e quindi anche lì tutti i paesi senza senza il tipo di green pass italiana bene allora dato questo quindi date le pollici data la copertura ok cosa ho fatto sono andato a me che non viene l'altra figura scusatemi ecco sono andato a vedere i casi ma guardate i casi ma non dei casi è interessante perché si vede io ho scelto lo stesso arco temporale allora vedete che c'è una grande ondata spagnola ok che era maggiore e una grande ondata francese quindi praticamente nello stesso periodo avete due paesi questo è tutto per milioni di persone quindi la dimensione paesale avete due paesi uno che a livello di protezione medio uno a livello di protezione alto che hanno un'ondate simili d'accordo mentre avete quelli a livello di protezione basso c'è la svezia eccola qui quel periodo guardate la svezia qua è bassissima durante tutta l'estate ok e poi qui invece avete dov'è il giappone il giappone c'ha una sua tutta piccola ondata qua piccola rispetto alle nostre no questa quella italiana ok diciamo di tarda estate di tarda estate essere notate sono abbastanza in simultanea abbastanza in simultanea mentre fuori fase diciamo così quella svedese che è piccola viene d'accordo poi tutte quante calano ok e quindi anzitutto è violata c'è una forma di similarità nonostante le politiche diversi tassi vaccinazioni diversi e però c'è un'inversione o una non correlazione con l'ordine che uno si aspetterebbe ora notate io non sto dicendo che più restrittiva la policy ai più a infezioni e meno restrittiva ce l'hai meno infezioni ai sto dicendo che ha pochissimo impatto che le restrizioni che sono le restrizioni che contro rispetto mascherine lo è chiuso eccetera hanno impatto tutte le altre non lo hanno quindi il fatto di avere un indice molto alto vuol dire che hai aggiunto restrizioni e obblighi che hanno zero impatto vuol dire solo che stai opprimendo vessando rompendo i coglioni per dirla in italiano i tuoi cittadini senza nessun effetto e queste qua il verde il rosso il blu il verde strano il marroncino della della finlandia e il bluet della svezia lo provano non c'è alcuna relazione fra le dimensioni di questa ondata e la stringenza e lo stesso vale qua secondo ondata c'è forse qualche relazione assolutamente no qua siamo al ridicolo il giappone ha dei tassi di infezioni bassissimi nonostante abbia politiche di chiusura a metà leve all'uno simile a quella della spagna che invece qua la svezia che ha le più basse di tutte e qua la finlandia che ce le ha basse ce l'ha alto ma anche la francia e l'italia ce l'hanno alta l'infezione nonostante abbiano politiche di chiusura altissime quindi fra i tre grandi in questo momento con grandi tassi di infezione per milione abbiamo due con le politiche di chiusura e di restrizione più 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 forti e una di quelle basse quindi capito di nuovo non c'è correlazione occhio che non sto assume occhio di qualche cretino non vado in giro a dire boldrin dice che fa solo danno che la correlazione negativa no non c'è correlazione è quello il punto che la grande maggioranza di restrizioni politiche terrori warning e altri impedimenti alla vita normale che vengono introdotti non servono a un cazzo mentre servono quelli che guarda caso il giappone e la svezia ok cioè fare attenzione all'ovvio d'accordo quali motivi propaganda elettorale oltre che la questo ci pensiamo e lo stesso era finalmente poi ha messo i morti e i morti vi raccontano la stessa storia ok vi raccontano la stessa storia oltre a raccontarvi questa anomalia francese questa sì no scusate queste a cazzo fatto casino ma comunque la stessa storia chiedo scusa ho letto ho spostato le due cose quelle di prima erano i morti ok vabbè stessa roba quindi i morti vi raccontano questa storia qua i casi vi raccontano esattamente la stessa storia qui vedete la grande ondata spagnola analoga quella dei morti la grande ondata francese quella cos'è giapponese eccetera eccetera quindi questi sono i casi e di nuovo vedete questa cosa qua cioè la francia qui si è anomala la francia anomala perché se guardate la mortalità francese in questo caso e guardati come sta in termini di casi in termini di casi sta nel pacco tra nel gruppo no con italia finlandia in termini di morti sta completamente fuori in termini di restrizioni sta completamente come l'italia quindi molto forte e in termini di vaccinazione sta un pelino sotto dell'italia ma è più alta sia della svezia che del giappone che della finlandia quindi e dove lo è da tempo quindi non riusciamo non è che questo qua questo richiede questo tipo di dato qua se qualcuno lo sa questo richiederebbe un case stati no arrivano altro giorno i dati questo arrivano al giorno che ho fatto questo tweet due giorni fa l'8 dicembre vedo lì 7 sarà forse 7 sono 7 e 8 ok i dati sono recentissimi cambia niente sicuramente gli ultimi due giorni che la francia tantissimi sì federico la stessa roba ho semplicemente invertito ma raccontano la stessa storia questo è il data dei casi o madonna avete ragione avendo invertito avete ragione ho invertito ho invertito ho invertito comunque ricomincio questi sono i casi e come vedete la francia ne ha tantissime nonostante non abbia una politica di restrizioni come l'italia aveva un bacino come l'italia nel gruppo di mezzo ci sono quattro paesi questa restrizioni medie questa restrizioni alte questi due restrizioni basse e hanno casi per capita uguali e poi c'è l'altro opposto bassi quindi se se dovessimo prendere i due opposti cioè i due estremi in questo momento la francia giappone cosa avremo avremo che il paese con restrizioni medio basse a pochissimi casi un paese per restrizioni molto forte a tantissimi casi nel gruppo di mezzo che ovviamente il gruppo più rappresentativo non è un outlier in quel senso abbiamo un mischiotto abbiamo tutti e tre i tipi di politiche e come dei casi completamente uguali e lo stesso andando indietro perché trovate anche qua qua nella fase di bassa sono bassi tutti eppure come avete visto dai disegni delle politiche anche se sono bassi tutti qua alcuni hanno forti restrizioni in quel periodo altri le hanno medie altri le hanno deboli e quando sono di nuovo alti tutti qua anche qua di nuovo l'ordine di il ranking dei casi non corrisponde al ranking che ci si aspetterebbe se l'indice di restrizione facesse effetto questo stesso ragionamento vale anche per i morti nei morti c'è più rumore c'è più oscillazione che secondo me ha a che fare anche con reporting ma una che sberda che mi sono fatto dato per punirmi e te io quando sbaglio non mi piace per niente sbagliare infatti per tutto attento non mi cazzate grazie di avermelo detto vi ringrazio per davvero stavo dicendo non che cambi l'argomento ma stavo parlando di morti invece parla di casi in casa di città di modi ok su su a voler in data trovate tutto guardate ma che potete mettere la germania l'austria l'olanda però dovete mettere anche la norvegia la finlandia il portogallo e vedrete che questi la taiwan e scoprirete che questo argomento che è banale è banale da vedere in questi sei paesi regge la correlazione fra temporale e causale fra intensità delle restrizioni il loro effetto sui tassi di contatto che è quello che dovrebbero avere in particolare è praticamente zero non negativa zero e lo stesso vale per i morti ok e anche lì i tassi di vaccinazione pur essendo leggermente diversi ovviamente aiutano a capire i morti bassi ma di nuovo è inutile stare lì a fare le competizioni ma io l'82 tu hai l'81 allora io sono meglio è stato per il green pass no ok occorre avere l'intelligenza di guardare i dati potete ripetere questo esercizio quanto volete io scelto questi sei paesi per le ragioni che ho detto è una scelta giustificata certo non si possono confrontare paesi a caso però qui ci sappiamo cinque paesi europei è un paese asiatico che l'unico paese asiatico un po occidentale cioè il giappone è vero che un'isola è un paese grande ed è estremamente popolato densamente nelle zone del curato del giappone ha una popolazione che il doppio d'italia madonna che sberle che mi sono dato per punire non mi sentito un po colpa sia appunto l'obbligo di mascherina aperto come dice daniele è una cosa imbarazzante una cosa idiota una cosa umiliante come dice ma a me non me la frega niente me la metto per carità metti metti dalla macchie cazzo ti dice niente ma vuoi metterla metterla però poi imporla a me poi porla a me e vendermela come se fosse chissà che cosa che tu sei bravo e salvi la vita umana questo è il punto io non sto cercando di diffondere un'idea per cui tutte le restrizioni fanno danno eccetera cercando di far capire che occorre sapere vedere quali politiche servono e quali politiche non serve che questo era il senso di quel tweet non so chi mi abbia chiesto all'inizio di raccontarlo grazie perché a buona occasione antoggio 88 argentina e brasilia mostrano cose simile sì esatto ma l'argentina e il peru hanno ottenuto livelli di lockdown come li chiamiamo di restrizioni altissime con effetti disastrosi il peru che ha tutto un lockdown mostruoso a accreditarsi in modalità peggiori del mondo in assoluto i peggiori del mondo certo paese povero tutto quello che volete cosa ne vuoi che lo commenti marco ma capisci è la guardate è molto semplice posso dirlo ma lo dico da tempo stiamo verificando della maggioranza dei nostri considerati dei noi di noi umani è fondamentalmente abbastanza paurosa ipocondriaca abbastanza poco fiduciosa dell'evidenza scientifica o meglio accetta l'evidenza scientifica questo è un tema ormai che ho fatto tema di mia ricerca accetta è danni in gru in un certo senso o self confirmation bias per meglio accettiamo l'evidenza scientifica facilmente quando conferma i nostri pregiudizi i nostri istinti i nostri desideri ciò che vorremmo che il mondo fosse mentre quando l'evidenza scientifica nega ciò che vorremmo che il mondo fosse quando va contro i nostri pregiudizi i nostri desideri le nostre paure le nostre illusioni ci fastidisce ma lo so io stesso ho per anni io fumavo per anni ho resistito ad accettare l'idea dei danni per anni per anni ho voluto negare a me stesso che c'era una parte di medici a michele se un cretino però c'è una parte di medici a sì no però adesso dipende la genetica la rava la fava il buyer può per insegne contrario no non è vero che può pensare un argomento normativo mi avviso questo bias self confirmation bias l'abbiamo tutti ma è naturale che sia così in un certo se ci vuole i danni dell'alcol infatti non si riconoscono e anche quello c'è per esempio io proprio guardate qui non ho scritto ancora articolo federico filipucci ma lo sto scrivendo con il mio studente abbiamo un progetto cui vorrei dedicare più tempo ma che continuo molto bello che è vedere l'implicazione della competizione nel settore dell'informazione e anche nel settore delle proposte politiche a quando le persone hanno delle prior forti emozionali ideologiche e hanno self confirmation bias ok mischi mi sembra una relazione poco dimostrabile sono le persone pro capite vedi giaponi rispetto i paesi mediterranei quanto sono rigorosi a tenerli al chiuso quanto tracciamento fa e mischino da 7 e questa frase cosa vorrebbe dire a parte che giapponesi sono uno dei propri più sociali che abbia mai conosciuto non siete mai stati già c'è stato parecchie volte negli anni 90 alla fine degli anni 80 e la seconda praticamente fino al 98 non da sono tutti gli anni fatto anche delle settimane quei giapponesi e festa continua casino bar eccetera ok hanno limitato in questo periodo sì però il grado di socializzazione giapponesi è simile a quello del napoletano letteralmente non del vento e l'intasamento delle metropolitane delle stazioni è in tokyo di osaka di kyoto di kobe e stellare quindi cosa vorrebbe come già non so cosa vorresti suggerire con questa cosa molto solitari tokyo alle due di notte così così